Siamo a Selle Marino nel quartiere generale del sindaco Mauro che vince le elezioni. E' una vittoria veramente sofferta, sindaco Mauro. Sì, è una vittoria bellissima. Ci siamo giocata molto bene. E' stato un confronto anche molto duro. Alla fine Selle Marino ha riposto in me ancora la fiducia dei prossimi cinque anni. Voglio ringraziare loro, tutta la comunità. Da oggi si riparte tutti insieme. Sono il sindaco di tutti. Grazie particolare alla mia famiglia che mi ha sostenuto e mi ha supportato e sopportato. E quindi la voglio ringraziare, mia moglie, mio figlio, mia mamma. Ma questo risultato non è solo mio, mio fratello e tutta la famiglia. Non è solo mio risultato perché è di tantissimi giovani, tantissimi selliesi che ci hanno messo la faccia. E' un risultato molto significativo. Credo che abbia un eco importante nella politica anche regionale. Selle Marino è tra i paesi più grandi della provincia di Catanzaro. E quindi tante espressioni di forze politiche si erano uniti insieme per poterci battere. Noi abbiamo battuto loro nel rispetto. Voglio puntualizzare che da oggi il confronto politico aspro è finito. Siamo tutti amici anche della lista concorrente. E quindi si riparte tutti insieme con una nuova armonia a continuare a far crescere Selle Marino. Grazie. Grazie.